Ciao, come sempre la voce è un po' andata, però vi parlo al termine di questo nuovo episodio di grandi manovre sul canale Io Gioco e in questo episodio di grandi manovre parliamo di Publio Cornelio, Scipione e delle guerre punte, la grande lotta, quindi anche Annibale, la battaglia di Zama, quindi argomenti che conosciamo che però rivivremo in grandi manovre con il metodo che ci siamo dati, con il nostro stile, quindi la grande storia ma anche tre grandi giochi che ci permetteranno di riviverla. Il primo, notissimo Annibale e Amilcar, che ci permetterà di rivivere l'intera seconda guerra punica, poi un wargame classico, classicissimo, Zama, Annibale, Voskipio della Decision Games, quindi siamo nel mondo dell'Ex Encounter, assoluto, e infine il terzo, un gioco molto particolare, un gioco di miniature, di battaglia in miniatura ma senza miniatura, solo con le carte, muovendo le carte sulla mappa, e quel gioco è Onus, che ha tante battaglie dell'antichità e anche, veramente, molte dedicate alle guerre puniche, quindi al confronto tra rumani e cartagini. Tra i grandi giochi, un grandissimo tema, tutto questo è grande manovre, sul canale Io Gioco, vi metto il link in descrizione, come sempre, vi aspetto lì. Ciao!